Mi sentirei di partire con l'analisi della gara? E' una partita difficile, sinceramente, sapendo quello che dovevamo proporre noi. Dovamo giocare qualche giocatore che ha giocato un po' di meno e qualche giovane molto interessante che abbiamo in un settore giovanile. Abbiamo arretto sempre bene il campo, secondo il mio punto di vista, e abbiamo sfiorato l'impresa, specialmente nella parte finale della partita. Ma che cosa ti resta di positivo in una gara che non è stata? Resta il fatto che, secondo il mio punto di vista, di divertente ci sono sicuramente i risultati. Perché io vedo che tentare di giocare, sbagliare 7-8 gol come a Fiorenzo alle perdi, ti restano dei calzotti in bocca. Quindi ti resta ben poco. È un campionato difficile, è un campionato che presenta la partita di Coppa Italia di campionato molto aggressive, molto dinamiche, come spirito. Noi abbiamo ritrovato lo spirito che, secondo il mio punto di vista, abbiamo perso un pochino negli ultimi dieci giorni e può capitare. Noi dobbiamo partire da questo spirito qui per poi migliorare naturalmente dal punto di vista tecnico, dal punto di vista realizzativo. Però è anche vero che credo che oggi abbiamo un centrocampo inedito e abbiamo fatto giocare anche molti giorni. La partita di oggi è stata, secondo me, dal punto di vista generale, molto difficile da affrontare. Ma lo sapevamo e sapevamo anche che era difficile per gli interpreti che sono andati in campo. Guardate anche i calci di rigore, ha tirato un 2003, un 2003, un 2006. Dovevo dire che questa squadra qui ha coraggio, almeno questo dobbiamo dirlo con esatta franchezza. Una squadra che non molla, una squadra che ha voluto fare il risultato, poi chiaramente i calci di rigore non siamo stati premiati di questa grande sofferenza, calcolata. Sappiamo che per fare risultati di un certo rilievo bisogna soffrire. Sinceramente, stasera contro questo avversario qua fare di più? Cioè, sinceramente no. Perché quando c'è da tirare le orecchie a un gruppo che magari è in difficoltà, sono il primo a dire che sono responsabile. Però stasera abbiamo dato saggio anche a far giocare di 2007-2006, con squadre complicate come la Razzigiano. Non è da tutti i giorni. Dobbiamo fare anche dei complimenti a un gruppo che li ha plasmati, a un gruppo di lavoro, a un gruppo che li allena. a una società che investe nel settore giovanile, che finalmente magari porta in prima squadra 3-4 giocatori. Non è da sottovalutare. Ed eravamo vicini, non dico che meritavamo, perché non è vero, ma eravamo vicini a un certo punto a superare anche il turno. Allora, io dico, non è che abbiamo snobbato la Coppa Italia. Abbiamo deciso, insieme al mio staff, di fare una gara di questo rilievo, con dei giocatori, tra virgolette, adoperati un pochino di meno. E secondo me le risposte sono state ampiamente positive. Per il giocatore, visto che hai provato, Tra i noti, secondo me, ha dimostrato di essere un super professionista, un ragazzo serio e un capitano degno di noti. Ha fatto un'ottima partita, quindi chiaramente è sempre stato in considerazione ancora di più dopo la prestazione di oggi. A me sono piaciuti i ragazzi giovani per spirito. È normale che possano trovare meno spazio durante la stagione, però secondo me è un bel biglietto da visita che hanno dimostrato. Sono contento dello spirito. Sono partite difficilissime da portare. Non ci interessava la Coppa Italia, invece hanno detto che la Coppa Italia ci è interessata, non l'abbiamo snobbata, l'abbiamo allenata bene. L'abbiamo preparata molto bene, sapendo del rombo dell'Arginiano. Abbiamo subito il giusto, cioè poco. E non abbiamo fatto giocare dei giocatori che hanno un dice di pericolosità molto alto, perché sia Atis, sia Sangalli, sia Rada, ci sono dei giocatori che hanno in mezzo al campo, Succio che non c'è. E noi abbiamo giocato praticamente con un certo campista inediti. Ricollani che faceva la mezzala, che ha messo il ruolo, però si è disimpegnato bene. Quindi ha dato dimostrazione di essere vivo. Poi, ripeto, Radica ha questo problema della maschera che crea non poche difficoltà. E abbiamo perso, secondo me, un giocatore forte, a crescita che sia 2003, 2003. Quello che deve passare, secondo me, è questo, almeno per come la penso io. Noi stiamo lavorando benissimo, con i ragazzi giovani, e stiamo plasmando, stiamo portando avanti un certo tipo di politica che ha voluto la società. Siamo contenti, siamo molto entusiasti di quello che stiamo creando, e sappiamo anche che dobbiamo sempre soffrire per la partita. Questo è il secondo messaggio che deve essere chiaro sempre.